Si parte Bardelloni, Bardelloni palla dietro per l'ovaglio, calcio al volo, ribattuto Semenza, interviene ancora Semenza, prova a tirare verso la porta, la palla gli si alza Cross basso, palla che schizza e rimane lì, vai lati contrastato, Accorsini contrastato Palla ancora che danza in area di rigore, palla per Accorsini Grieco prova a far partire, parte Gasparri solitaria, arriva davanti al portiere Porta in vantaggio la Varesina, Lussignoli guarda il movimento, palla dentro per Bardelloni Che prova una rovesciata, fa ripartire il crema con Russo che appoggia dietro a Lussignoli Lussignoli prova la sventagliata morbide per l'ovaglio, anche lui prova la sforbiciata Tutto pronto per il calcio d'angolo, scambio corto, ancora per Orejana, alza la testa Cross al centro, la palla non la tocca nessuno Crema contiene, palla per Vailati, Vailati sulla destra, cerca il cross, finge, palla dentro Per Bardelloni che controlla, appoggia dietro per Cerri, murato dall'uscita tempestiva di Grieco Lussignoli, attenzione, movimento liberato per Bardelloni, Bardelloni entra in area Si gira ancora Bardelloni, cerca il tiro G che trova Accorsini, Accorsini ancora per l'ovaglio che braggira a occhi chiusi 1-2 tra Russo e Bardelloni Palla fuori di niente, gran tiro, gran tiro di sinistro di Russo Parte Bardelloni a cercare Baggi Che non riesce a centrare la porta Ancora il numero 10 del Varesina che rientra Prova a calciare, gran parata di Ziglioli Si riparte con la sfida Molto bene, aspetta il movimento a largo Lovaglio, Lovaglio punta, sovrappone, vai lati, vai lati, arriva al tiro Palla fuori di pochissimo Che viene trovata su Semenza Semenza sovrappone Russo Russo però non vuole forzare Quindi gioca per Cerri che prova il cambio di gioco Per Lovaglio che con un controllo Attenzione, Lovaglio, Lovaglio davanti al portiere Attenzione, Bardelloni Salvataggio di Grieco al limite Sulla riga Ancora meno zero Attenzione, cerca la palla per Aureliana Si va allo scambio corto Palla per Tomella sul primo pallo Semenza guarda Entra in area di gore Aspetta Cerri che mette il cross Traversa Clamorosa Ancora Tomella Palla alta Cerri in anticipo Viene messo a terra Ma il direttore Ligare attenzione Aureliana liberato Calcia in porta Per Bardelloni Scambio ancora con Gallo Palla allargata Per Tomella Ancora palla dentro Per Bardelloni Grande, grande azione del Crema Stringara Pronto alla battuta Palla dentro Corta Prolungata La palla schizza in area Rimane in area Palla per Accorsini Che calcia Avanti la palla Accorsini Prova la palla lunga Il direttore di gara In questo momento Fischia la fine In questo momento Camacgia le palla Aspettare C'è la fine Il direttore di gara Ma è un leader di gara E' un leader di gara In questo momento Il direttore di gara E' un leader di gara In questo momento In questo momento Il direttore di gara